Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Imprunita e Incisa Reggello per traffico intenso e code in uscita a Firenze Sud. In A11 code in direzione Pisa tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili, a causa di un veicolo in fiamme chiuso lo svincolo per la statale Unaurelia per Pisa in uscita provenendo da Firenze. Ralentamenti tra Firenze Scandici e l'allacciamento per la A1 in direzione Firenze e code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. A Firenze si segnalano ralentamenti per il traffico intenso sui viali e per lavori alla rete idrica e lungarno Cellini fino al 10 aprile prevista la chiusura della corsia a lato edifici all'altezza di piazza Poggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!